l'impatto benissimo perché cioè allora io premetto paura del dentista però sono arrivato qua rilassato cioè mi ha messo a mio agio senza problemi infatti infatti mi sono trovato benissimo e niente il primo step quasi non sapeva né cioè perché le cose cioè io quando decido ci ha voluto un po perché sai è prima conoscervi e dopo e c'era già stato con una persona che conoscevo poi un mio collega altre due persone poi quando ti gira quel click mia moglie non sapeva aveva già prenotato il volo prenotato tutto sono partito il lavoro che ho fatto qua da noi in italia ci voleva non ti dico un anno ma qua in una settimana tra virgolette ho risolto il problema ma è cambiato la vita ma è cambiato la vita perché mezzo la gente cioè non è che va bene che tutta gente anni però avere i denti a posto così sorridi più rilassato e anche il mangiare sei più sereno e tutto proprio ti cambia la vita sia come mangiare che proprio in mezzo alla gente è una cosa fuori di testa quando sei in mezzo alla gente fai fatica a mangiare cioè se fare una battuta che devi ridere è sempre li denti un po qualche maniera così se sempre l'imbarazzo si sempre no mi è cambiato la vita non ho parole guarda sinceramente spero che di non aver problemi però vabbè i problemi uno alla volta risolveremo come abbiamo risolto questi niente tutto lì felicissimo guarda lo rifarei mille volte